Noi vorremmo fare le vacanze insieme quest'anno, sa, per fare squadra, per conoscerci meglio. Naturalmente stanze separate. No, 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 alberghi separati. Benissimo. Ma avete già un'idea? Mare. Montagna. Non ho capito. Mare. Mare, 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 mare. Montagna, 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 montagna. Ma scusami, ma lui non ci pensi? Certo che ci penso, lui è di acqua dolce, per quello bisogna andare in montagna. Ma secondo me lui preferisce il mare. Ma che ne sai tu? Ma c'ha le pinne! Ma non sono le pinne così... Ma, Fabio... Che tempo che fa! In Prima TV, a ottobre, sul 9.